Sarà vigente dal 6 di marzo al 6 di aprile. È un DPCM frutto di un confronto importante, prima di tutto con il Parlamento. C'è stato come sempre un passaggio sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. C'è stato un lungo confronto con le Regioni, di cui poi riferirà sicuramente il Ministro Gelmini. E c'è stato come sempre un confronto che noi riteniamo molto importante con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, che voglio ringraziare per il lavoro importante svolto in questi giorni. Il principio guida del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è quello della tutela della salute come questione fondamentale, come faro, come linea guida essenziale.